Buonasera a tutti, come mai una night session dopo l'afternoon session fatta poco tempo fa, poche ore fa? Faccio questa night session di mercoledì 20 luglio ore 22.46 per un semplice fatto che prima di tutto vorrei farvi un piccolo dono, ovvero mi sono consultato con il gruppo di trader che coordino nel premium e mi hanno detto ok puoi dadi questo swing, ovvero è arrivata la discesa come d'attese, siamo andati peraltro sotto questo minimo a 22.916, abbiamo fatto infatti 905 e quindi non solo abbiamo reso ribassista al primo dei settimanali di questo t settimanale ma siamo già andati in violazione di quello che da questo massimo ci dice che sta partendo non soltanto un t-3 come nelle altre precedenti volte ma sta partendo un nuovo ciclo a minimo 3 giorni, massimo 5, un t-1 inverso. Quindi l'analisi fatta prima e quelle precedenti, tutte corrette. C'è una cosa interessante oltre al piccolo cadeau che vi faccio anche perché solo al gruppo premium lascerò il target, anzi ho già dato il target per la discesa, il possibile target e lo swing per un nuovo t-inverso perché qui si parla di ragionare o della partenza di un t-inverso o di un t-1 inverso. L'altra cosa interessante che però mi permetto di farvi notare è che a parte che non cambia nulla rispetto a quelle che sono le aspettative infatti abbiamo iniziato a scendere per far partire almeno un settimanale almeno un settimanale inverso e tra l'altro abbiamo impattato sulla media mobile a 50 periodi per cui di nuovo quelli che dicono l'analisi tecnica non serve a niente con bitcoin sì, se non la sai utilizzare, se non la sai leggere, per carità eh se invece lo sai, vedi determinate cose che casualmente all'interno di, quante sono? 8 candele eccole qua sono quasi tutte verdi stranamente proprio a contatto con la media mobile rossa quella a 50 periodi si forma una certa candela e che candela si sta formando? si ferma un inverted hammer ok? un martello invertito ma potrebbe anche chiudere come una doji una doji significa sì sì, siamo saliti molto bene ok? però adesso pauso un attimo vediamo se ci fermiamo facciamo la chiusura almeno di un ciclo settimanale o vediamo quanto si scende perché come detto da qui può partire un settimanale oppure un bisettimanale inverso e con la partenza che avremo e con la discesa che potremo avere capiremo tantissime cose perché se violeremo lo swing soltanto di un T inverso ci fermeremo magari anche solo 1700 punti 1700 dollari scusate sotto il prezzo attuale se invece andremo ancora più sotto avremo indicazioni di altro genere e peraltro ribadisco da quanto riguarda un T inverso basta rimanere sotto questo massimo per ora perché manca ancora un'ora e dieci alla chiusura della giornata ma bisogna rimanere almeno sotto questo massimo fino non soltanto alla chiusura di questa candela ma anche della prossima per far partire un settimanale per far partire un bisettimanale inverso ne servono a meno tre di candele sotto questo massimo compresa questa candela per cui già soltanto dal numero di candele dal colore il colore in realtà no in questo caso dal numero di candele che rimarranno sotto i 24.276 dollari capiremo cosa può partire capiremo quindi ancora di più se siamo in questa condizione e se abbiamo voglia di fare che cosa di tornare appunto a salire e a vincolarci in salita di prezzi velocemente o meno anche da come chiuderà questa candela e da come chiuderà la successiva sarà sotto la media mobile a 50 periodi e sotto di quanto eventualmente per questo motivo volevo oltretutto farvi notare un'altra cosa interessante perché ci sono tante cose interessanti quando bitcoin si muove in un certo modo allora qui abbiamo chiuso ok il nostro settimanale inverso partito da questo massimo fa un minimo e torna su questo massimo massimo 11 candele anche se in realtà potrebbe aver fatto fatto 10 e poi il raccordo da 2 perché comunque in ogni caso l'evoluta a differenza della vecchia ciclica come ripeto da un miliardo di analisi e qui tiene conto comunque del tempo e quindi tiene conto del fatto che qui in ogni caso da qui a qui abbiamo avuto 63 barre di raccordo inverso t-2 che si colloca solitamente tra due cicli di grado bisettimanale t più 1 inverso è tutto nelle regole quindi se devo solo fare affidamento sulle regole stesse questo comunque è un t-2 inverso anche se che cosa è successo anche se questa candela ha cambiato colore è passata da verde a rossa avevate notato questa cosa divertente perché ho dato un piccolo indizio appunto al gruppo di trader che coordino ma non ne ho parlato ho preferito rimandarli appunto a questa a questa analisi e a questo punto ribadisco qui comunque con 24 barre più questa se rimarrà rossa possiamo avere una condizione di chiusura di t più 2 inverso se partito da qui e non partito da qui siamo sicuri? la risposta è semplice è sempre nelle regole se conoscete le regole dato che questo è un metodo statistico matematico non discrezionale chiunque le impari se le sapete queste regole potete dirmi eh ma no hai detto una stupidaggine eh ma no questa cosa qua non funziona perché e se entrate nel dettaglio potete farmi notare magari delle cose che mi sono sfuggite per cui mi fa piacere se ci sono dei commenti che sono costruttivi e che mi ricordano che ho fatto un errore errore che può capitare a tutti tra l'altro il trading non è fare il 100% delle operazioni corrette non esistono queste statistiche un trader in gamba ne fa 7 su 10 valide e quelle 7 con quelle 7 guadagna più di quello che perde nelle 3 che sbaglia se però voi andate a vedere le statistiche dei broker vedrete che oltre l'85-90% delle persone o almeno delle persone che fanno trading che non sono trader professionali non arriva neanche lontanamente a quella statistica e soprattutto continua a perdere costantemente poi c'è circa 6% di persone che non perdono e non guadagnano e poi nella statistica c'è un 4-5% di gente che invece sistematicamente guadagna e se andate a controllare chi appartiene a quella categoria scoprirete che non sono quelli che sanno tutto di bitcoin o delle altcoin o delle cripto o della blockchain o di tutte queste cose qua ok ma appartengono a una categoria ben particolare che tra l'altro non ne sa magari neanche nulla di borsa sapete che categoria è? è quella dei matematici gente che costruisce un modello matematico e poi schiaccia il pulsante quando deve andare long o schiaccia il pulsante quando deve andare short e chiude l'operazione quando glielo dice il sistema come un robot e meno emotività c'è nel trading e più si guadagna questa è la questione voi volete fare parte di chi sistematicamente si porta a casa il suo o volete rimanere in balia dell'emotività delle notizie che come abbiamo dimostrato negli ultimi giorni tra caduta del governo tassi USA eccetera non contano niente se non il brevissimo sui grafici con la caduta del governo guardate dove siamo questa è stata la discesa che teoricamente ha fatto la caduta del governo questo giorno qua il 14.7 il rischio di caduta e ma noi siamo finiti qua su non so se chiaro tassi USA anche qui discesa ma in realtà siamo tutti saliti abbiamo continuato a salire avremmo dovuto fare esattamente il contrario eppure che cosa è successo siamo saliti questi sono fatti guardate l'S&P 500 dopo l'annuncio dei tassi stiamo continuando ad aggiornare i massimi dall'8 di luglio siamo al 20 quindi quanto contano le notizie le balene tutte stemenate qua assolutamente niente prima ci si arrende a questa evidenza matematica ok a questi fatti e prima si può tornare a fare trading e noi torniamo un attimo a ragionare di trading ok perché oltre a queste cose che ci tenevo che vedeste perché sono importanti adesso ritorniamo a noi purtroppo la violazione di questo minimo è avvenuto dopo la 24esima barra quindi non ce ne facciamo assolutamente niente abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura di un settimanale sì perfetto abbiamo anche la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura di un bisettimanale perché qui da qui questo era il minimo a dunque 18.638 912 ok quindi questo minimo 18.774 è più basso rispetto a questo quindi secondo settimanale terzo settimanale abbiamo eventualmente una condizione per andare a chiudere un mensile che può avere la condizione necessaria e sufficiente qui per chiudere ma che non sappiamo se si sia chiuso è possibile che si sia chiuso ci sono tutte le condizioni per che si sia chiuso ma qui abbiamo già una condizione necessaria e sufficiente per la chiusura di un mensile lato indice no per cui anche se non ci sarà allora se ci sarà potremmo fare delle riflessioni se non ci sarà e potremmo fare delle altre potremmo finalmente capire se qua si è effettivamente come immagino come penso interrotto il primo mensile e avendo un primo mensile rialzista o laterale rialzista significa che esattamente entro i 336 giorni del countdown che avete visto che avevo pubblicizzato nelle nei titoli ok delle precedenti analisi da qui può sta partendo partendo finalmente l'annuale un annuale nuovo in sordina con molta calma ma qui può star partendo un annuale quando qua quando continuiamo a scendere e a ritornare vicini a questi minimi la gente diceva no no prima si va a 13.000 c'erano i commenti no 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 si torna a 5.000 no si torna a 3.500 dollari e invece siamo saliti esattamente come da attese e come da vincolo sull'inverso perché se arriva a 13.000 se non è motivato quanto vale essendo un'opinione e il 5.000 il 3.500 dollari 3.500 dollari quanto vale essendo un'opinione e all'atto dei fatti direi niente ma ribadisco qui non voglio convincere nessuno io do delle informazioni se le informazioni tornano e se la persona capisce capisce anche che cosa può voler fare qual è il suo obiettivo in merito o alle crypto o al trading se invece si vuole soltanto dar credito alle notizie e tutto il resto quindi adesso chissà che cosa salterà fuori per questa discesa ok ma dopo che è arrivata la discesa non prima come vi ho detto che sarebbe arrivata entro le tot barre ok sarebbe arrivata la discesa perché noi l'abbiamo detto prima nell'analisi precedente che arrivava la discesa prima delle 44 dopo le tot ok ed è arrivata nel tempo corretto adesso però cosa si inventano con questa discesa come la giustificano gli altri e se continuiamo a scendere come la giustificheranno ancora perché noi lo stiamo già dicendo che si può scendere ancora ok anche se qui abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura del T settimanale ma vediamo che cosa succede se non riescono a rimanere sopra questa media mobile a 50 periodi vediamo se si inizia a chiudere una candela all'interno della della nostra nuvoletta dell'acumo che cosa succede se non si arriva qua sotto e poi se non si va ancora un po' più sotto noi ne stiamo parlando adesso chi parla adesso di questa discesa ne parla dopo che è arrivata non prima esattamente come vi ribadisco veniva detto dopo i entro i 336 giorni minimo e poi rimbalzo nessuno lo diceva forse soltanto io ed un altro trader che si poteva salire due su chissà quanti per cui se il metodo vi interessa chiedete tranquillamente degli appunti gratuiti scrivendo a info chiocciola financial armor punto eu questa mail rimarrà ancora in essere per ancora un po' di tempo ok poi probabilmente vedremo dopo settembre che cosa se indirizzare già su su un'altra landing page o su altro perché stanno cambiando tante cose molto rapidamente alla mail potete ricevere informazioni sul gruppo premium ma soprattutto una piccola guida introduttiva gratuita alla ciclica base per poi passare eventualmente le volute tanto quanto mi hanno regalato queste dispense tanto quanto anch'io a mio turno ok a mio modo le regalo a chi può essere interessato perché perché al tempo mi sono innamorato della vecchia ciclica perché funzionava ancora tanti anni fa e non riuscivo a capire come fosse possibile che senza guardare le notizie senza ascoltare i telegiornali e tutto il resto ci fosse gente che mi diceva che il giorno dopo avevamo fatto il massimo sul MIB sul DAX alle 12 o più o meno in quell'orario e andavo a controllare ed era così per cui ritengo che se si vuole creare un circolo virtuoso di persone che collaborano fattivamente per raggiungere un unico obiettivo quello di guadagnare con il trading sia corretto dopo aver ricevuto Dara a mia volta e caspita sto dando a tante persone anche perché abbiamo appena tagliato il traguardo dei 12.000 iscritti se non sbaglio poi controllerò per sicurezza in ogni caso ribadisco se questo è minimo reggerà per almeno un tm5 laterale alzista e poi torneremo sotto questo minimo stesso a 22.905 dollari valuteremo come di consueto il nostro short e è possibile che sia questa la strada più corretta per continuare ad andare giù il resto eventualmente lo valuteremo in un altro modo perché intanto di inverso abbiamo tanto di quel tempo per continuare eventualmente a scendere per far partire un t inverso almeno che non ho tanta voglia di parlare di altre opzioni ok di altre strade anche perché se no ci si ci si guasta troppo la vita spero che abbiate gradito il dono le varie informazioni il terreno rispetto alla precedente analisi e caspita siamo di nuovo arrivati a tono ai 19 minuti di analisi siamo quasi di nuovo in un altro webinar diciamo che mi sto preparando alle vacanze vi ringrazio per il vostro tempo vi ringrazio molto anche per i tanti input che mi date per fare questi video e per rispondere alle vostre domande sappiate che la community su facebook adesso si chiama Evoluta ok quindi la trovate lì lì è più facile che risponda persino più rapidamente rispetto al canale di facebook cos'altro raccontarsi beh l'altra notizia fantastica di oggi a parte quella che finalmente è arrivato il passaporto e quindi posso partire per la meta che ho già deciso di andare a godermi in questa vacanza che sarà lunga perché devo recuperare due anni di covid per cui non sono potuto andare all'estero ecco e il fatto che la midnight ha tirato fuori Lady Vendetta e se non conoscete la trilogia della vendetta di Chan-wook Park che parla di quanto vacuo sia questo sentimento vi suggerisco di dare un'occhiata ai blu-ray buona serata a tutti arrivederci grazie a tutti